Il 7 gennaio è iniziata, su tutto il territorio nazionale, la raccolta dati di Istat per il settimo censimento generale dell'agricoltura. Se hai ricevuto una lettera dall'Istat, sei chiamato a compilare il questionario online. Il censimento coinvolge tutte le aziende agricole con almeno 20 aree di superficie agricola utilizzata, oppure 10 aree investite a vite, funghi, coltivazioni in serra, oppure presenza di capi di bestiame o tre alveari. Puoi compilare il questionario collegandoti al sito raccoltadati.istat.it slash censagr2020 Puoi rispondere alle domande tramite intervista telefonica, chiamando il numero 800 961 985 oppure farti guidare nella compilazione dagli operatori specializzati dei centri di assistenza agricola. Oltre a richiedere alcune informazioni anagrafiche sul conduttore dell'azienda agricola, il questionario contiene domande sull'utilizzo di terreni, sugli allevamenti, sulla mano d'opera e sul livello di innovazione dell'azienda. Il censimento termina il 30 giugno 2021. Per tutta la durata della rilevazione potrai essere contattato telefonicamente per fissare un appuntamento e ricevere supporto per la compilazione. Ricorda che rispondere è un obbligo di legge. Ricorda che rispondere è un obbligo di legge.